Da qualche giorno è stato attivato il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie di Lucera. A tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico i bambini della città potranno finalmente usufruire del servizio mensa, anche se in merito all'acquisto dei blocchetti ticket, la cui richiesta deve pervenire direttamente presso le scuole, si sono verificati alcuni disagi legati alla distribuzione dei buoni, che alcune famiglie già detenevano da mesi e il cui utilizzo era stato messo in discussione. I disagi sono stati risolti con la convalida dei ticket acquistati in precedenza. Riconsegnato dunque ai bambini delle scuole di Lucera il servizio di refezione scolastica, ora si attendono novità positive anche per quanto riguarda il servizio Scuolabus.